Enego, un escursionista, si sente male sul monte Ortigara, ricoverato in elicottero. Questa mattina, poco prima delle 11, il soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla centrale del 118 per un malore a metà del sentiero che da piazza Lozze sale all'Ortigara nel territorio di Enego. Un 49enne di Rosà che stava salendo in compagnia si era infatti sentito poco bene. Mentre una squadra si apprestava ad intervenire, l'uomo è stato recuperato dalle riambulanze di Verona Emergenza all'altezza del Baito dell'Ortigara, sbarcato in hovering, equipe medica e tecnico di risoccorso, una cinquatina di metri di distanza dall'uomo colto di malore e cui iniziali sono CZ a quota 1.900 metri. Prestate le prime cure, l'escursionista è stato imbarcato e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, pronto a intervenire in supporto alle operazioni in che il soccorso alpino di Asiago. Grazie. Grazie.